A Bruxelles farebbero meglio occuparsi di altro, visto che per qualche burocrate di Bruxelles il voto dei cittadini è quasi ininfluente, visto che stanno preparando lo stesso pacchetto o pacotto come se non avessero votato italiani, francesi, tedeschi. Se così fosse mi sembrerebbe davvero una mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini che hanno votato. Lasciano che l'Italia cresca, corra, punti sul merito. Questa è l'autonomia, non è una vittoria della Lega, è l'applicazione di quello che la Costituzione per scelta della sinistra prevede.